Grazie a tutti, come sempre, che io ho visto anche come in testo, contrariamente a quanto a volte fanno, senatore, una finalità dell'attenzione del progetto senatore con il suo intervento, il principio che lei ha iniziato non può essere condiviso, sia dei doni, anche del progetto, e non è importante, ma in memoria mia è sua, che chi parla ha sostenuto anche contro la volontà del suo intervento la sua candidatura a città, e che quella sordita non è stata vissuta davvero con una vittoria, ma come una sordita. Perché allora, come oggi, forse oggi è più di adottare, ritenevo che la guida di questa città dovrebbe essere data nelle mani del burattinaio e non del burattino. Lei ha perso quella campagna elettorale, io come lei non penso perché mi sia stata una voce attivata della città, perché sono un uomo nella città che non lo spesso, per quanto è la città, non probabilmente, ma non vive con la donna attenzione di un re, di un re, di un re, di questo obiettivo. Io, bene a parte, il consigliere Eriza, ho vissuto con lei, anche la diastola, dicevo così, io vi ricordo alle azioni di paranti, sui mesi di paranti, la senatore, la metà, la metà, della attenzione che ho vittemato io, perché, dato che le salate, le salate, facciamo stanotte, la metà. Basta rischiamare, siamo quelli che, scoprono, no, non mi dico, forse si può. Dato che le acuse infamanti, venivano dal tavolo del sindaco, nei suoi confronti, accuse personali che riguardavano nessun delegato suono e nella sua famiglia, a vicende personale della sua vita, a vicende personale facendo immaginare i scenari di colleganza dalla sua famiglia e dalla sua famiglia. che ho visto con il conto, per quel senso di vergogna che ho trovato in quell'occasione e sentire quelle parole per la Costituzione. e sempre venivano dal tavolo del sindaco, per quel senso di vergogna che ho trovato in quell'occasione. E sempre venivano dal tavolo del sindaco, per quel senso di vergogna che ho trovato in quell'occasione. e l'occhio è il don bacia, in prese del controllo del sindaco, viva un'occasione che ho trovato in quell'occasione, a vivere un don coisson e io ne colgo i tuoi amici, dopo che si ne colgo i tuoi amici, e se non ce l'hai trovata in quell'occasione, io non mi consiglio, non mi consiglio per il certo che mi consiglio di vergogna. Se non mi consiglio di vergogna senatore, quando anche allora si consenta per il cielo e così. Io ho un po' di Dio, perché Dio dice che bisogna lavorare nel passato e nel passato, e io queste cose lasciano a me per la punta, perché evidentemente l'hombo di usare lui stesso, per me a lei, che non c'è mai stata l'intenzione di non difendere quell'esperienza amministrativa che ha condotto allo strumento. L'abbiamo fatto in due tre anni, l'abbiamo fatto indietro. Ciò che voglio aggiungere a me, a me, a me che sono, diciamo, potenti e migliorati. Lei ci vuole parlare dei risori del dirigente, e io anche qui sono costretto a ricordarle, per mia stessa e per il suo ricordo, che all'appenato Tommaso Marco, su cui fosse stato il miglior dirigente della scuola, un fatto nome, un fatto nome che oggi non è stato, nominato, lei mi parla di intuido persone della politica, e mi fa il caso, quando io la sprecito sul nome del mio nominato dirigente al Consorzio Cilidea, lei mi prende i meriti, in quel caso, essendoci una ragione di intuido persone, quindi di politica, passano un secondo piano, perché c'è una ragione di politica. Lei mi fa intendere, poi, che il dirigente da politico, il fatto che sia stato cercato il nome, non la significa perché la scelta era per poche persone, ma non può negare che da quando è stato un'amica, il dirigente, il fatto che sia stato il bisogno, dalla prima ora, dirigente della politica, l'attore e la macchina, tutti i metri e i metri, ma il problema non è la qualità del nuovo potente, è l'indirizzo politico che viene dato al tecnico, che è un'unione di ideale. La discussione non è sulla preparazione di una qualità, però se si chiede all'attualità di assegurare l'obiettivo politico, se si chiede all'attualità di assegurare l'obiettivo politico, è evidente che il contenuto della dovrebbe, della dovrebbe, ma la dovrebbe essere una situazione con le sue amiche di bando, o le sue amiche di giochi, non è questo il futuro. Mi appunti comprenderò tra l'attualità di giochi e sanno, come il mio progetto con il mio amico mi fa, diventa una confusione, mi faccia compiegare il concetto, parecchio, come l'ho scontato con l'attenzione, non lo condividerà, lo farò a tempo di interno, per i suoi amiche di, diciamo, per i suoi amiche di bando e per i suoi compiegare, perché il punto è quello, e non ci può dire che la presidenza del Consiglio non possa diventare un vecchio di cambio, se l'assessorato non possa essere un vecchio di cambio, e non mi risulta con l'etica, non si ha un vecchio di cambio, soprattutto se qualche uomini che vengono parte di più di persone, ricadano persone che, non avendo l'etico, hanno ascolti di parentela o di trenta vicine con il nostro periodo, e questa è una cosa che, come dire, ci appassionava quando ha fatto queste cose, che non ha fatto il soggetto, però ci deve far passare con le questioni politiche, quindi, con questo, insomma, non manca comunità, e questo proprio come un vecchio di dominatore, so che la faccio sorridere, e questo mi rea gioia, e sapendo la sorridenza di far stare, se io ho anche avuto a su, e io per questo voglio vedere da te, e anche per vedere da pure il riferimento, non lo so, e questo mi rea gioia, e anche se io ho anche un'etico, e che è gioia, e che è un'etico unità, e sono di bisogna, inevitabilmente, prendere atto, e la sua fiducia, quando ha la gestione, e la cosa pubblica, nel poter, impituare e scomporre le ragionanze, ci dovete a pensare, che una comunità, non si dice a fare il riferimento, ma stanno inserendo a lei, e il potere, 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 il problema è, non lo so, no lo so, no lo so, no lo so, no lo so, però non so lei, che sei però, utilizzate, anziché, il sistema di traccia, quello che Berlusconi, ha usato, per me che con, la quartiera, la quartiera, ma anche altri, ci sono i miei, che verita, perché, un termine del ver Castro, che si fiet Yea, lo so, ma non ho indispensato, che si fichte non consapevole,